Buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignoni in vostra compagnia. In A1 ci sono cose attratti tra Firenze Scandici e il BV1 variante di Valico in direzione Bologna. Traffico ralentato tra Valdarno e Firenze Sud in entrambe le direzioni. Cora in uscita Valdarno provenendo da Roma per traffico intenso. In A11 traffico a rilento tra Luca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. Cora tratti in Fipilita di Carello e Ponte della Ovest in direzione Est per traffico intenso. Per un mese e mezzo dal 15 luglio il tratto tra Empoli Centro e Empoli Est verso Firenze sarà a una sola corsia. I lavori sul diadotto di Ponzano dureranno fino al 21 agosto. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria tra Ulla, Lunigiana e Castelnuovo Garfagnana. Cancellazione di treni e corse con bus per le corse regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!